Per più di un secolo caratterizzata da una forte emigrazione, basti ricordare che milioni di italiani sono andati all'estero in quest'ultimo secolo. In quell'anno, 40.000 migranti, 4 volte di più rispetto a quelli sbarcati nel 2013, mentre nel 2015 gli arrivi sono stati 153.000, con una diminuzione del 9% rispetto al 2014, mentre nel 2016 il numero è tornato a salire, riducendo drasticamente gli arrivi in Grecia, che sono passati dagli 850.000 del 2015 ai 173.000 del 2015.